Lutto cittadino, bandiera a mezzasta e attività sospese, la comunità di Ostra si è fermata Per l'ultimo saluto alle vittime dell'alluvione, celebrati a tre castelli, funerali di Maria Luisa Sereni Questa sera a San Lorenzo in campo, fiaccolate e veglia di preghiera per il piccolo Mattia Alluvione a Pergola, il racconto di chi ha vissuto quella notte da incubo, case sventrate, muri abbattuti e gente sui tetti Regna ancora l'incredulità È una cosa assurda quello che ho visto io, perché neanche in televisione non ti rendi conto Ma passavano le macchine, i tronchi I comuni alluvionati lanciano appelli per autospurghi, pale, vanghe, idropulitrici La Caretas di Fanno organizza una raccolta di cibo e prodotti per le pulizie Con 20 eventi e 30 ospiti dal 25 settembre al 1 ottobre torna la settimana africana regionale a padre Giulio Albanese il premio Ol'Africa nel cuore Domani prende il via Fanno fiorisce al Pincio di Fanno 30 stand alla mostra a mercato che si arricchisce di attività per bambini e musica con l'orchestra sinfonica russina Buonasera a tutti e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione del nostro telegiornale Due comunità si sono fermate oggi per il rito funebre di 5 delle 11 vittime dell'alluvione Nel campo sportivo di Piannello di Ostra sono stati celebrati i funerali di Andrea Giuseppe Tisba, padre e figlio Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi Durante la funzione, ufficiata dal Vescovo Franco Manenti Una persona accusata un malore ed è stata soccorsa dai sanitari Sempre nel pomeriggio a Passo Rippe di Trecastelli E' stato dato l'ultimo saluto a Maria Luisa Sereni, l'ottantenne travolta dalla piena nella sua abitazione Entrambi i comuni hanno proclamato il lutto cittadino I titolari dei negozi hanno abbassato le saracinische Mentre nelle scuole e negli uffici pubblici e privati sono state esposte le bandiere a mezzasta Durante l'omelia, il Vescovo Manenti si è rivolto alle istituzioni Affinché intraprendano una incisiva e tempestiva azione di messa in sicurezza del territorio Perché, ha detto, non accada ancora che l'acqua, bene prezioso e fonte di vita Porti morte e devastazione nelle nostre case Intanto prosegue l'inchiesta per omicidio e inondazione colposi Ieri i carabinieri forestali hanno acquisito i dati meteo e i tabulati telefonici Di coloro che sono stati parte attiva nella catena di allerta meteo I sommozzatori dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della guardia di finanza Oggi si sono calati di nuovo nelle acque del torrente Nevola, nel territorio di Corinaldo Dal punto in cui è stata trovata l'auto di Brunella Q, la 56N che risulta ancora dispersa L'automobile, una BMW Serie 1 ridotta a un ammasso di lamiere, è stata ripescata ieri sera dai militari Della donna però nessuna traccia In azione anche i droni e un elicottero delle fiamme gialle per una nuova mappatura della zona alluvionata Proseguono in contemporanea le ricerche di Mattia Luconi, otto anni scomparso nel territorio di Castellone di Suasa L'amministrazione comunale di San Lorenzo in campo con la parrocchia dei Santissimi Biaggio e Martino Ha organizzato per questa sera una fiaccolata e una veglia di preghiera per Mattia Si partirà alle ore 21 da Piazza Verdi Il corteo passerà davanti alla casa di Mattia per poi arrivare in Basilica La comunità di Pergola invece per fortuna non piange nessuna vittima ma la situazione è drammatica e regna ancora l'incredulità E' una miracolata, una miracolata Non ci creda ancora Silvana Pergolini, figlia dell'83N che si è salvata dall'apocalisse di giovedì scorso La sua casa in via 20 settembre a Pergola è stata completamente sventrata da un'ondata di piena del fiume Cesano Signora lei abitava in questa casa? Sì, mia mamma, sì, casa nostra Ora dove si trova? Innanzitutto sta bene? Mia mamma sta bene, su da mio fratello E niente, è provata Quella notte è riuscita a uscire con i vigili del fuoco alle 3 di notte Però lei non si è resa conto di niente E piano piano iniziamo a dirgli qualcosa così Ma è riuscita ad uscire prima che venisse sventrata la casa? No, la casa era sventrata E i vigili del fuoco l'hanno tenuta dalla parte della cucina Perché era la parte più solida E poi lei quando ha sentito il rumore Ha cercato di aprire la porta della camera mia E non le si è aperta Perché già era dissestata sicuramente Per fortuna Perché se no l'aveva portata via E dopo alle 3 della notte l'hanno tirata fuori E non ci abbiamo più niente Ancora c'ho qualcosa su Però non possiamo entrare Come pensate di fare adesso? Pensiamo di fare Ancora siamo tutti sotto shock Non so Io spero che qualcuno, qualche istituzione Ci aiuti e che non ci abbandoni Perché fino adesso Pergola non era nemmeno nominata Pergola Il rione delle birarelle Il rione delle birarelle Non era Ma sono contenta che qualcuno ormai Io capisco il frastuono Tutto quel che è successo Ancora noi non ci possiamo capacitare Ancora noi Noi Io spero che andrà a lungo Mamma non entrerà più in questa casa Ma nemmeno io c'entrerò più in questa casa Nemmeno io Ho 53 anni Ma non ci rientrerò più nemmeno io Qui quello che viene chiamato Anche il quartiere delle tinte Lo scenario è spettrale Soprattutto di notte Ha raccontato Silvana Quando ai residenti Si aggiunge la paura degli sciacalli Di giorno invece Lungo la strada Si sente solo il rumore Dei mezzi in azione L'alluvione Ha battuto muri Cancelli e portoni Fango e detriti Sono entrati ovunque È una cosa assurda Quello che ho visto io Perché neanche in televisione Non ti rendi conto Ma passavano le macchine I tronchi Lei per fortuna Non ha subito danni Ma lo shock È stato importante Io ho visto li guardi Niente Però quello che ho visto qui Non me lo dimenticherò mai Credete E anche in televisione Vedi delle robe Ma te lo devi vedere Con gli occhi da vicino Terremoto Non lo so Non lo so Nonostante la disperazione L'incredulità Le lacrime agli occhi E la tanta fatica Ci ha stupiti L'accoglienza E la disponibilità Di queste persone Che ci hanno accolto Nei loro giardini E nelle loro case Per mostrarci ciò che è rimasto Da molti Però l'acqua ha spazzato via tutto Anche lei da anni In garage In cucina È al primo piano Perché l'acqua Come potete vedere È arrivata lì Due metri saranno È abbondante È entrata dai Tre tre sì Dai bocchettoni Da reazione Però Insomma Me la metto Sopra Bene o male E qui Poi se volete venire Andiamo Ci faccia vedere La seguiamo Con la camera Quindi Questo era il garage Andiamo Ok Vediamo anche la parte esterna Domenica Sabato e domenica Tutta la comunità Vergolese Si è stretta Intorno a noi Quindi Eravamo in tanti E bene o male Abbiamo fatto tante robe Tante cose Quindi E questo Un po' Ci aiuta Stasù col morale Perché qui era Non glielo so Dice Era De tutto Quindi Il fango Rami Alberi Tanto vedi Anche qui La legnaia È tutto coperto Speriamo che la burocrazia Faccia un passo più veloce Noi ci stiamo Rimboccando le maniche Ma anche Le carte scritte Debbono viaggiare Rapido Le vostre auto Dove sono finite Dove le avete ritrovate Una L'abbiamo ritrovata Qui L'abbiamo ritrovata Hanno detto Che è ferma Qui a un chilometro L'altra Probabilmente Sarà al mare Non lo so Non l'avete rivista No Essendo più leggera Ha galleggiato Più in superficie E quindi È utilitaria Quindi Logicamente anche la sua Andata completamente distrutta Immagino di sì Tanto Comunque inutilizzabile Intanto a pochi metri di distanza Proseguono incessanti i lavori Di fronte alla chiesa delle tinte Questa è la situazione attuale Dove si notano i danni provocati a tutte le strutture adiacenti Abitazioni comprese Ma guardate questa fotografia scattata dopo l'alluvione C'era un ingente accumulo di rami, tronchi e oggetti vari Sarà stato alto circa 8 metri Ha commentato il residente Uno scenario impressionante Anche questo albero è stato sradicato? Sì, sì Viene dal fiume Da là viene Ed è stato trascinato dalla forza dell'acqua? Sì, sì Sì, sì È stato fortunato che si è agganciato al melo E altrimenti avrebbe danneggiato le case Sono stati evacuati loro? No Loro hanno tutto per il momento Hanno acqua, luce e gas Perché è stato allacciato provvisoriamente Siete stati al ponte? Sì, esatto Il ponte era ostruito? Ostruito dai tronchi Praticamente Il fiume ha deviato sulla strada E sul vecchio vallato Ha deviato Praticamente la via Si è portata via tutte le macchine parcheggiate E ha lasciato tutti i tronchi Fino all'altezza del primo piano delle case Per cui è una cosa mostruosa, spaventosa Mai vista per questa cittadina? Sì, sì Noi siamo rimasti qui fino alle 3 di notte Hanno liberato gli anziani Hanno portato via E chi ha potuto uscire? Perché il resto delle famiglie è rimasta tutta la notte È rimasta Nonostante quello che stesse succedendo sotto Ai piani bassi Sì, sì Ma avevano le porte ostruite dai tronchi Non potevano proprio uscire Non potevano uscire Sono uscite a mezzogiorno Alle una del giorno dopo Le famiglie Sono uscite Addirittura sui tetti C'era famiglia A lei è entrata nel garage? Sì, ha portato via tutto Non è che è entrata sull'acqua Ha dovuto buttare via tutto? Eh, ha portato via l'acqua tutta la roba Non c'è più? No Sul garage niente Dove era signora quando è successo? Ero di sopra Il piano di sopra Il terzo piano Che cosa ha visto? E che cosa ha vissuto? Non ho visto perché mi hanno suonato Ho aperto la finestra Ho visto l'acqua Mio marito è venuto a salva il cane E poi sono andata su al secondo piano Ho visto le macchine a partire È successo tutto? Cinque minuti Noi sulla finestra Tutta la mattina Fino alle cinque La mattina Ha mai visto qua una situazione del genere? No, in 74 anni non l'ho mai visto Perché il fiume scorreva e scorreva bene E andava tutto dalla parte di là Il fiume si è attappato E ecco il risultato Bello Delle piante Anche lei oggi sta continuando a pulire Sto aiutando i miei genitori a ripulire La giovedì che togliamo fango Fango Ancora abbiamo la cantina piena Che comincia a essere malodorante Quindi abbiamo bisogno veramente anche di volontari Perché altri risorsi non abbiamo Però pensiamo al lato positivo Qui davanti erano piantati dei pini da decenni Erano alti circa 20 metri Il proprietario dell'abitazione ha deciso di sua iniziativa Di tagliarli e piantare degli olivi Se fossero stati ancora presenti Diciamo che il quartiere sarebbe stato spassato completamente Quindi vediamo anche il lato positivo della situazione Soprattutto che non c'è stata nessuna vittima Per il resto piano piano Se non ci abbandonano ce la facciamo Perché anche sabato e domenica Sono arrivati tutti i ragazzi Amici dei miei figli Sono stati veramente anche da Fano Sono venuti con una squadra E quindi ci hanno sostenuto in tutti i modi Chi ci ha portato caffè Chi ci ha portato pizza per cena E non ci hanno abbandonato Quindi questo è l'importante Anche nel momento del bisogno abbiamo visto tanta solidarietà E questo veramente è grande Molto bello E la sensibilità è stata tantissima Forza e coraggio perché ce la farete Ce la faremo anche questa volta Grazie Giovedì 22 e venerdì 23 settembre Presso il centro Riccibiamo In via Piave 13 a Fano La Caritas organizza una colletta di cibo E di prodotti per le pulizie Per aiutare le persone colpite dall'alluvione I volontari saranno presenti Dalle 9 alle 12 e 30 E dalle 15 alle 18 Un'altra iniziativa proposta da Caritas Riguarda la possibilità di recarsi A Cagli e a Pergola Per dare sostegno alle persone in difficoltà Maggiori informazioni verranno date In un secondo momento Perché ora si raccolgono solo le disponibilità E ci sono diversi comuni Che stanno chiedendo aiuti A Cantiano ad esempio Servono carriole, secchi, pale, tubi e stivali di gomma Ma anche deumidificatori idropulitrici Non occorrono invece indumenti, pannolini e cibo Tutti i materiali vanno consegnati Nell'ex fabbrica Baldeschi Sandriani E poi ritirati nella chiesa collegiata Dove è previsto un punto di distribuzione All'interno si possono trovare acqua E attrezzature per i volontari A Senigallia invece Ieri sera si è riunito nuovamente il COC Il centro operativo comunale È stata presentata la nuova mappa Della zona rossa E risulta che l'area colpita Copre un totale di 9 km quadrati Dove risiedono 10.000 persone Il 22% della popolazione comunale Da una parte è aumentato Il dispiegamento di operatori e mezzi Sul territorio Ma resta la criticità Legata al numero di autospurghi A disposizione Attualmente ne sono impiegati 14 Con altri 10 in arrivo Ma ne servirebbero almeno 40 Al governatore Acquaroli Che rappresenta l'incontro Il sindaco ha chiesto La collaborazione della regione Per semplificare i moduli Di richiesta di rimborsi Ed evitare così Le lungaggini burocratiche Nelle zone alluvionate Protatta al proposito La regione ha deciso Di utilizzare i camper Che vaccinavano la popolazione Durante la pandemia Come ambulatori itineranti Di supporto psicologico Sui pulmini saranno disponibili Un assistente sociale E uno psicologo Ma in campo ci saranno Anche una cinquantina Di operatori Tra volontari Delle associazioni di riferimento E personale ASUR Il programma verrà deciso In accordo con i sindaci Poi verrà comunicato Ai cittadini Cambiamo decisamente argomento Perché domenica Prende il via ufficialmente La settimana africana regionale La manifestazione promossa Dall'associazione L'Africa Chiama Quest'anno accoglierà 20 eventi e 30 ospiti O il premio L'Africa nel cuore Verrà consegnato A padre Giulio Albanese Nata 25 anni fa Da un'idea di Italo Fondatore dell'Africa Chiama Anche quest'anno La settimana africana regionale Prevede un programma Ricco di iniziative Quando si parte? Allora si parte Con un'anteprima Che sarà giovedì 22 settembre In occasione della giornata Dei migranti e dei rifugiati Avremo un momento di riflessione Alle 23 quarti Per essere il chiosco di San Paterniano E questo sarà un po' Ecco l'anteprima Di questa settimana Che poi invece Verrà inaugurato Ufficialmente Domenica 25 settembre Con un incontro Che si terrà Alla Memo Dove ospiteremo Alle 17.30 Da Sambu Buffa Una attivista Ma anche presente In modo significativo Sui social E parleremo con lei Del tema Che sarà Femminismo E afrodiscendenza In collaborazione Con Pari Opportunità E il Pari Centro Di Fano E poi proseguiremo Domenica 25 Alle ore 21.30 Invece con un reading Di letture A cura di Francesca Giommi Che invece Si svolgerà Presso Fabbrica Urbana Poi ci saranno Una serie di iniziative Tantissime Appunto Che andranno a scandire Tutti i giorni Della settimana E si concluderà poi? Si concluderà poi Sabato 1.Ottobre Con quello che è Ormai diventato In modo Diciamo così Abituale La serata finale Che è la Notte Nera Ci ritroveremo Dalle ore 17 Presso il Bastione Sangallo di Fano Per Alle 17.30 Consegnare il premio Hola Africa nel cuore Che quest'anno Abbiamo deciso di assegnare A padre Giulio Albanese Un missionario Comboniano Ma giornalista Fondatore di Misna L'agenzia di stampa Appunto di tutti i missionari Del mondo E giornalista Anche di Avvenire Vita Redattore sociale Tantissime testate Un grande conoscitore Dell'Africa Poi proseguiremo Con concerti E musica E festa Avremo come ospiti Il duo Jabel Canutè E Marco Zanotti E il gruppo Cico E Mamma Africa Anita Sarà anche l'occasione Per presentare Il bilancio Dell'associazione Sì Proprio sabato 1 ottobre Alle 10.30 Presso la Mediateca Montanari Presenteremo Il bilancio sociale Dell'Africa Chiama 2021 Per noi È un momento importante Perché avremo modo Di raccontare Tutti i nostri sforzi Tutti i risultati Raggiunti Nello scorso anno È un bilancio sociale Che parla di numeri Ma soprattutto di storie Di tanti beneficiari Che abbiamo incontrato Lo scorso anno E stiamo continuando A incontrare In Kenya Zambia Tanzania Ma anche in Italia Nel segno della trasparenza Assolutamente sì Oltre a essere un bilancio sociale È un bilancio economico E per noi La trasparenza È un punto fondamentale Dell'associazione Ancora cronaca Pericolo scongiurato In via Malvezzi A Fano All'altezza della mensa Opera di Padre Pio Dove intorno alle 18 Un anziano di 84 anni A bordo della sua Citroen C3 Nell'effettuare la manovra Di parcheggio Ha perso il controllo Del veicolo Ed è andato a sbattere Contro il muro Di una casa Danneggiando Anche il contatore Del gas Sul posto Sono intervenuti La polizia locale E una ditta specializzata Per la verifica Dei danni Al contatore Nessuno È rimasto ferito E un altro incidente È accaduto In via della colonna A Fano Coinvolta Nel sinistro Una onda Condotta da un fanese Di 49 anni E una Kia Guidata da una 59enne Del posto A seguito dell'urto L'onda è finita Contro la recensione Di una casa E ha danneggiato I contatori Enel Il 49enne È rimasto ferito Ed è stato trasportato In codice giallo Al pronto soccorso Del Santa Croce In occasione Della ricorrenza Del Santo Patrono Della Guardia Di Finanza San Matteo Si è celebrata Oggi Nella cattedrale Santa Maria Assunta di Pesaro Una messa Ufficiata Dal vescovo Sandro Salvucci Hanno preso parte Alla cerimonia Autorità Civili e Militari Erano presenti Anche rappresentanti Dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia Nonché i familiari Del compianto Vittorio Ciacci Originario di Urbania E deceduto In servizio Nel 1966 In provincia Di Sondrio Torniamo a Fano Perché il centro storico Torna a riempirsi Di profumi E colori Grazie a Fano Fiorisce Da domani a domenica Trenta espositori Riempiranno La zona del Pincio Per la mostra mercato Che quest'anno Si arricchisce Di attività Per bambini E di musica Con l'orchestra Sinfonica Rossini Servizio di Filippo Pucci Quattro giorni Dedicati agli amanti Della natura E del verde Torna Nel cuore di Fano La tradizionale Festa dei fiori L'appuntamento In programma Da giovedì 22 Fino domenica 25 settembre Vedrà coinvolgere A partire Dalle ore 8 e 30 Del mattino Tutta la zona del Pincio Via Arco d'Augusto Via delle Rimembranze E via Filippo Corridoni Più di 30 Gli espositori Tra florovivaisti Produttori E vasai Che proporranno Fiori Piante E naturalmente Le novità dell'anno La possibilità Di rendere Le nostre case E quindi La nostra città Più bella Più green In un programma Anche molto ricco Perché ecco Oltre la mostra Mercato Avremo laboratori Per i bambini Nei tre giorni Venerdì Sabato E domenica Nell'area Dei giardini Roma E c'è una bellissima Collaborazione Con la giornata L'European Mobility Week Che il 22 Porta la Tecfem In piazza 20 Settembre A realizzare Una serie di attività Sulla mobilità Sostenibili Quindi un altro weekend Dove la città Sarà ricca Ecco Ma la voglia Anche da parte nostra Di incentivare tutti A rendere Le proprie casi I propri balconi Fioriti Più belli Così che tutta la città Insomma Diventi più bella Insomma La città di Fano Si trasformerà In un grande giardino A cielo aperto Ma anche in un grande palco Perché nelle giornate Del 24 e 25 settembre Grazie alla collaborazione Dell'orchestra sinfonica Rossini Si svolgeranno due concerti Nella zona del centro storico E del Piccio Il primo sarà sabato Alle ore 18 e 30 Saranno degli aperitivi In musica In collaborazione Con i locali Che hanno partecipato Nel periodo estivo All'iniziativa Il mercoledì degli artisti Quindi alle 18 e 30 Al Bardan Gwendalina E Oritali Ci saranno degli artisti Che aglieteranno I momenti dell'aperitivo Poi avremo due concerti Il sabato Sempre alle 18 e 30 Ma nel cuore della festa Quindi al Pincio Sopra il Pincio Quindi penso che sarà Abbastanza suggestivo Ci sarà la band Sonart Che altro non è La parte pop Dell'orchestra sinfonica Rossini E così Si esibirà anche domenica Lo stesso gruppo Con lo stesso programma Per il ricambio Dei visitatori Della fiera Quindi domenica Alle 18 e 30 Questo concerto Che gioca Sulle radici E quindi proporrà Le radici Della musica italiana Che sono I classici Battisti P.F.M. Graziani E tanto altro ancora Amarotta e Mondolfo Domenica 25 settembre C'è la terza Marotta Mondolfo Run È un'occasione Per correre E camminare Dal mare Alle colline Del nostro bellissimo territorio Io non sarò presente Perché sarò impegnato Al mondiale Di pallavoli In Olanda Però A tutti gli amici Dello sport Volevo ricordare Questa occasione Opportunità Per stare insieme E per fare sport Ciao a tutti E se l'invito Arriva direttamente Da un ct Campione del mondo Come non accettarlo Da diversi giorni Infatti Sul sito Del comune Di Mondolfo E sui social Della sd Marotta Mondolfo Run Circola un video In cui Davide Mazzanti In persona Invita alla terza edizione Della gara podistica Organizzata dall'omonima società In programma Domenica 25 settembre La Marotta Mondolfo Run 2022 Che sarà valida Come quinta tappa Del CSI Ircuito La competizione podistica Ideata dal CSI Fano Di fatto È una sorta Di 4 eventi in uno Sono previsti infatti Mini circuiti Riservati a bambini E ragazzi E due camminate Una di 8 km Con percorso lineare Sul lungomare E una di 9,6 km Con percorso collinare Il clou Resta ovviamente La corsa per i senior Che quest'anno Sarà di 11 km Anziché 13,5 Come nelle precedenti Edizioni Questo perché Organizzatori Comune e Prefettura Hanno deciso Di cambiare il tracciato Per lasciare liberi Gli accessi e i seggi Essendo domenica Giornata di elezioni Il ritrovo Per tutte le gare È alle 8 Nel piazzale antistante La bocciofila di Marotta Dove i runner Taglieranno poi Il traguardo Dopo aver attraversato Le strade di campagna Che collegano Marotta a Mondolfo E un tratto di lungomare Per info e iscrizioni Festeggiano 65 anni Di matrimonio Nozze di platino Per questa coppia Residente nel comune Di Monte Felcino Bene Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi uno speciale Dedicato all'inaugurazione Di un nuovo centro Radio diagnostico A Fano Grazie per averci seguito Vi ricordo come sempre Il numero di telefono Dedicato alle vostre Segnalazioni Inviateci un messaggio Su Whatsapp Al 338-4968-250 Arrivederci a domani